Terzo impegno interno per il Vasto Girardi che cerca la prima vittoria in campionato. Dopo il sonoro K.O. di Notaresco, al di Tella arriva i lecchieti di mister Lucarelli, reduce dall'1-1 casalingo. Contro il Fano, ostilità dirette dal signor Striamo della sezione di Salerno, per la cronaca 4.40. Si propongono i teatini con la discesa sulla destra di Di Mino. Il suo cross attraversa l'intera area giallo-blu con il pallone fuori dalla portata degli attaccanti. Minuto 14, il Vasto Girardi al limite dell'area con Ametai. Posizione favorevole per calciare, la sua rasoiata si perde a lato. 21esimo di nuovo gli altomolisani, scatto di Ametai che dribbla anche il portiere, fermato però in posizione irregolare dall'assistente. 29esimo inizia a prendere le misure anche Guida, che si esprime con un sinistro però da dimenticare. Praticamente una telefonata per il portiere Fusco. 33 di nuovo i locali con secondo fermato da Bassini, tutto regolare per il direttore di gara. Il 34esimo è un buon Vasto Girardi che però pecca di precisione, guida per Alagia. Pallone fuori bersaglio. Al 40esimo fallo di Akamadu ai danni di Guadalupe all'altezza della trequarti. Giallo per il giocatore nero-verde tra le proteste della panchina di Prosperi che voleva il rosso diretto per il duro intervento. 43esimo mischia in area ospite, si coordina Guadalupe. Ottima la mira, c'è bisogno però del riflesso di Fusco. Ultimo sussulto del primo tempo, il piazzato di Sergio Ruggeri con l'opposizione della barriera. È 0-0 all'intervallo e con Antonio Diperna in regia. 2.30 nel corso della ripresa, il terzino del Chieti, Pier Antonio. Interessante il suo traversone, gioco aereo di Fabrizi. Poco preciso nella circostanza. 12esimo per la squadra di Lucarelli. Avanza Puglielli di Stasio a tutto il tempo di agguantare la sfera, tuffandosi sulla sua sinistra. 14esimo corner in favore dei gialloblu. Se ne incarica Guadalupe. Elevazione di Sergio Ruggeri che però spedisce alto. Al 19esimo fronte opposto, Pier Antonio dalla destra. Disegna per Fabrizi. Colpo di testa, colmo di potenza e precisione che vale il vantaggio del Chieti. 24 di nuovo gli abruzzesi. Verna dalla lunga distanza si tuffa di Stasio che accompagna sul fondo. Al 26esimo invece Erodi a spingere. Semina panico in area avversaria. Lato corto sinistro a pochi passi. Cuoio che però sbatte sulla parte alta del montante. Al 34esimo si prende la scena il neoentrato Mingiano che riceve a pochi metri dal dischetto. Se l'alza e la piazza sul palo lontano dove Fusco non può arrivare per il punto dell'1-1. Cambia volto la formazione molisana. Michele Guida in solitaria, pallone sul destro che non gira a dovere. Finale al Cardiopalma con l'assalto del Chieti contropiede orchestrato da Pier Antonio. Sulla corsa Rodia a botta sicura c'è il colpo di Reni di di Stasio. Straordinario l'estremo difensore gialloblu anche nell'ultimo minuto di recupero sul colpo di testa sotto misura di Baldè. Pareggio giusto come dichiarato da entrambi i tecnici Lucarelli e Prosperi a margine della gara. Il Chieti sale a quota 8. Il Vasto Girardi rimanda all'appuntamento con la prima vittoria in campionato. E domenica farà visita al Tolentino.